Buongiorno da Edo, questa settimana la inizio parlando di cyber security e la terminerò anche parlando di cyber security perché questo sabato sarò a un evento qua a Bologna, Hakimbo, o Hakimbo, mi piace di più Hakimbo, no? Cosa dite? Vabbè, comunque Hakimbo è il primo evento italiano dedicato alla cyber security a cui partecipo come speaker. Parlerò di cyber security però relativa alla supply chain, una cosa di cui mi sto occupando un po' recentemente, ve ne sarete accorti. Comunque, se siete dell'evento, della partita, ci vedremo lì. Tanto ho un po' di ansietta perché sarò in mezzo a gente che si occupa di cyber security da anni, mega super esperti. Io non so niente, nulla, zero, e quindi cercherò di mentire, cercherò naturalmente di dissimulare, sperando che non mi sgamino, sarò lì come infiltrato. Vabbè, parte scherzi, questa puntata dicevo, parleremo di cyber security, ma prima, visto che siamo in intro, l'intro è lo spazio dell'editoriale, quindi editoriale. No, vabbè, brevemente, vi sarete accorti che ultimamente la AI generativa è al centro degli investimenti, dei discorsi di business, del marketing, di nuovi prodotti. Qualunque nuovo prodotto lanciato sul mercato, che sia software, che sia hardware, l'abbiamo visto recentemente proprio al Computex, ecco, qualunque cosa ha nel nome o nelle caratteristiche l'AI, qualcosa che rimandi all'AI. Insomma, AI dappertutto. Con AI, che è un termine che in realtà comprende un sacco di roba, ci si riferisce specificamente all'AI generativa. C'è quella roba che genera testo, o genera immagini, genera video, insomma, vi da, vi genera qualcosa. Il problema di questo hype, di questa tendenza, è che in effetti l'AI generativa è inaffidabile. Cioè, produce un sacco di contenuti che non sono realtà, non sono veri, non sono verificati, non sono verificabili. Ha il cosiddetto problema delle allucinazioni. Quindi, voi vi fidereste di una macchina che un certo quantitativo di volte non vi dà la risposta corretta. Come poteste affidarvi a una risposta del genere? Google adesso ha inserito degli snippet generati dall'AI nelle risposte alle ricerche del suo motore. E molti utenti si sono accorti di quante queste risposte siano a volte proprio totalmente errate, inventate, o contengono addirittura consigli dannosi per chi li dovesse seguire. E quindi, insomma, è una tecnologia che appare non in grado di soddisfare la richiesta primaria di un utente che si rivolge a una macchina, a un computer, cioè quella di avere una risposta certa. E molti ricercatori del settore, molti addetti ai lavori, ritengono che questo problema non sarà mai di fatto superato perché è proprio intrinseco al modo con cui questi risultati vengono calcolati e generati. Quindi, in pratica, delle allucinazioni non ci libereremo mai. Dovremmo quindi guardare ad altri modelli, ad altre tecnologie, ad altri algoritmi. Insomma, modalità che ci permetteranno di sfruttare le conoscenze che abbiamo appreso sviluppando gli LLM, tutto quello che riguarda l'AI generativa di questo momento, ma sfruttandolo per qualcosa che ci dia risultati davvero certi. E in particolare ci si concentra su delle tecnologie che adesso stanno ottenendo molto hype grazie a legge generativa, come ad esempio i Vector Database o anche il Symbolic Reasoning, tutti i metodi che vengono utilizzati poi per il cosiddetto RUG, no? Cioè l'aumento e il miglioramento dei dati presenti in un prompt in tempo reale per favorire risposte migliore. Insomma, tutto questo porterà probabilmente a tecnologie di cui ci potremo fidare meglio in futuro e questo è spinto anche dai grossissimi investimenti dati proprio dall'hype commerciale di questa generativa AI, che in realtà è una roba di cui forse nei prossimi anni ci sbarazzeremo perché non ci può dare risultati concreti e affidabili e attendibili. Peraltro, un'altra cosa molto interessante che probabilmente non abbandoneremo mai più, per quanto è comoda, è la possibilità di interagire con una macchina, con un software, con un hardware, con un linguaggio naturale. Cioè la tecnica del prompt, scrivere domande, fare, insomma, iniziare un discorso in linguaggio naturale, in inglese, in italiano, è effettivamente talmente bello, naturale e comodo che probabilmente, ecco, questa sarà una tecnica che ci porteremo invece avanti, miglioreremo perché effettivamente ci siamo resi conto che è assolutamente utile. Quindi insomma, mega hype per qualcosa che probabilmente in concreto non potrà andare molto meglio di come è oggi. Al di là dell'aumento esponenziale dei dati presenti nei dataset e il miglioramento delle tecniche di RAG, ecco, però, a un certo punto supereremo anche questa tecnologia, però tutti gli investimenti, tutto l'hype che stiamo sollevando adesso, ci servirà per probabilmente sviluppare quella che sarà la prossima generazione di AI generativa, se vogliamo chiamarla così, quindi di computer che rispondono con queste tecniche a domande in linguaggio naturale, prendendoli dai dati, dall'enormità di dataset che conoscono. Insomma, questo era il mio editoriale, vi è piaciuto? È un po' lungo, forse dovrei asciugarlo, però, insomma, ci ragionerò, ci lavorerò. Ma, come vi dicevo, questa puntatone del buongiornissimo si deve concentrare sulla security, sulla cyber security, quindi ho un paio di notizie di cyber security, tra l'altro una è italiana, ci riguarda proprio da vicino, andiamo. Allora, la prima vicenda è proprio di questi ultimi giorni, tra l'altro non è ancora proprio mega conclusa, super confermata, servono ancora dei tasselli che probabilmente scopriremo nei prossimi giorni, però è talmente grossa, poi lo vedremo anche grossa fisicamente, che ho voluto trattarla, anche perché mi volevo un po' informare io. Allora, partiamo, parte tutto questo racconto da un data breach in Ticketmaster. Ticketmaster, probabilmente lo conoscerete, no? Il servizio online per comprare biglietti di concerti, di roba, insomma. Ticketmaster, magari siete anche voi clienti di Ticketmaster, magari avrete un account su Ticketmaster. Beh, sappiate che questo vendor, questo servizio, è stato breachato e quindi potreste anche voi rientrare nel dataset e sfiltrato da Ticketmaster. Insomma, vi racconto un po' tutta la storia. Questo hacker, mettiamolo così, questo cybercriminale, noto come Shiny Hunter, sta vendendo, nel dark web naturalmente, tra l'altro su Bridgeforums, che era stato chiuso dall'FBI, ora si è risorto, ecco, quindi sta vendendo su Bridgeforum un dataset con 560 milioni di clienti di Ticketmaster, e vende questo dataset per 500 mila dollari. Quindi questo database dovrebbe contenere 1.3 terabyte di dati, con dati completi dei clienti, nomi, indirizzi, email, numeri di telefono, oltre naturalmente ai dati di vendita dei biglietti. Tra l'altro, con questi dati di vendita si risale anche a informazioni finanziarie, quindi informazioni sulla carta di credito, con i numeri della carta, hashed naturalmente, ma con le ultime quattro cifre in chiaro e con la data di expiration della carta, collegate, insomma, alle transazioni finanziarie dal 2012 al 2024. Quindi questa roba è abbastanza grave già di per sé. E questo è l'inizio del racconto, perché in realtà poi si scopre, ecco, dopo che Ticketmaster conferma, anzi Live Nation in realtà, che è l'azienda che possiede Ticketmaster, conferma questo Bridge e collega questo Bridge a un vendor, a un cloud vendor di terze parti, che è Snowflake. Dice Live Nation, il 20 maggio 2024, Live Nation ha identificato attività non autorizzata all'interno di un cloud database di terze parti che contiene informazioni sulla compagnia, primariamente provenienti da Ticketmaster. E ha quindi lanciato un'investigazione con, insomma, firme di cyber security per capire cosa stia succedendo. E dice poi, il 27 maggio, un cybercriminale ha messo in vendita ciò che appare essere come un dataset della compagnia, con dati provenienti dalla compagnia, via Dark Web. Siamo qui su Bleeping Computer, che ha contattato questo criminale, Shiny Hunter, che gli ha risposto che effettivamente sta cercando dei compratori per questo dataset. Vedete qua, intanto, uno screenshot proprio da Bridge Forum con i dati inclusi in questo dataset e il prezzo di 500.000 dollari. Tra l'altro, Shiny Hunter sospetta che uno dei compratori che si sono affacciati al sito sia proprio Ticketmaster stessa, o Live Nation, insomma. Quando Bleeping Computer gli ha chiesto a Shiny Hunter come avessero ottenuto questi dati, hanno detto, hanno risposto che non potevano dare ulteriori informazioni. Ma un team di cyber security ha scoperto qualche informazione aggiuntiva. Infatti, Alon Gall di Hudson Rock ha parlato di come questi attaccanti potrebbero aver avuto accesso a dati di Ticketmaster. E non solo Ticketmaster, ma anche di Santander, per esempio, che aveva confermato un breach nei giorni scorsi, è che tutti questi breach sarebbero collegati, in realtà, a un breach di un cloud vendor, appunto, che abbiamo già nominato, che è Snowflake. E che cos'è Snowflake? In pratica è un grosso cloud storage enterprise, insomma, per aziende che hanno un'enorme quantità di dati da gestire, e quindi Snowflake mette a disposizione questi dati con delle API che si connettono ad altri cloud vendor. Insomma, è possibile poi attraverso queste API accedere ai propri dati, fare analisi e tutta una serie di servizi che poi Snowflake collega a questo database. Quindi Snowflake è un leader nel settore dei data storage, dei data analysis, insomma, è un'azienda molto grande, è fornitore di altri grandissimi nomi dell'IT mondiale, insomma, Snowflake è un nome abbastanza importante. Allora, Hudson Rock ha parlato con il criminale, che ha detto di aver ottenuto le credenziali di accesso a Snowflake, rubandole con un malware da un dipendente di Snowflake utilizzando il suo account ServiceNow. ServiceNow poi è un servizio di gestione dell'infrastruttura IT, non so, ha vari software, vari servizi, quindi tramite uno di questi potrebbero aver rubato le credenziali di un dipendente e poi da lì aver acceduto, ecco, all'infrastruttura di Snowflake e a quel punto aver usato quell'accesso per fare exfiltration, quindi per tirare fuori tutto quel dataset, tutti quei dati, proprio dalla compagnia. E peraltro da questi accessi potrebbero anche aver ottenuto degli Outtoken non expired, che poi potrebbero aver usato per creare altre sessioni ed accedere ai dati di altri utenti. Qua si fa riferimento a Outtokens senza andare troppo nel dettaglio, probabilmente, visto che poi vengono citati in altri documenti, si fa riferimento a login e autorizzazioni con sessioni Okta, quindi o Out probabilmente, che sono sistemi di login e autenticazione che usano degli Outtoken, cioè dei Token che poi vengono passati durante le sessioni e consentono al server di autenticare il client verificando proprio che questo Token sia valido. Questo Token poi ha una vita di solito molto breve, quindi dopo un po', dopo qualche secondo non è più valido e deve essere rinnovato. Chiaramente, se la vita di questo Token è molto lunga, ciò significa che anche dopo che l'utente chiude una sessione, questo Token, rimanendo valido, potrebbe essere rubato da qualcuno e utilizzato per fingersi un utente autorizzato della stessa sessione, avendo appunto il Token valido. Questa, insomma, è un po' una ricostruzione che potrebbe essere fatta di questa vicenda. C'è da dire, però, che Snowflake ha smentito che le cose siano andate così. Snowflake, invece, ha puntato il dito contro account di propri clienti che sarebbero stati non propriamente ben protetti con magari login e password scarsamente sicure e le quali credenziali sarebbero state poi rubate, tra l'altro account, senza neanche la multifactor abilitata. Proseguo su The Register, che ci dà qualche altro dettaglio. Parla sempre qua Hudson Rock e dice che questo breach sembra essere uno dei più grandi di sempre, uno dei più grandi data breach di sempre e che dovrebbe aver avuto origine dal furto di credenziali di uno dei dipendenti proprio di Snowflake. Qua si fa anche il nome del potenziale malware utilizzato per fare questo furto di informazioni che sarebbe Luma. Qui si cita di nuovo ServiceNow e si cita anche Okta, quindi parrebbe essere lì stato il problema. Tra l'altro vi ricorderete che Okta era stato poi vittima di breach nei mesi scorsi e ha anche informato i suoi vari utenti di possibili compromissioni dei propri account, ma vabbè, non sappiamo se queste cose siano linkate al momento. E Hudson Rock prosegue dicendo anche che potrebbero esserci più di 400 clienti Snowflake potenzialmente breachati e quindi vittime di questo attacco proprio a Snowflake. Ma come vi dicevo, Snowflake ha negato, ha parlato invece di compromissioni di clienti, di propri clienti, quindi non di propri dipendenti. E poi ci sono dei vari statement di Snowflake che negano qualunque problema di configurazioni sbagliate proprio lato cloud vendor e quindi puntano l'edito invece su fattori esterni. Parlano in chiusura addirittura di una compromissione potenziale di un demo account, quindi di un account che potrebbe essere stato creato da un cliente, ma forse neanche un cliente pagante, un cliente che voleva avere una dimostrazione delle potenzialità di Snowflake che avendo creato questo account poi ha esposto qualcosa di strano. Però comunque faccio notare che questa roba rimanderebbe sempre a problemi di configurazione di Snowflake stessa e non del proprio cliente. Però, ripeto, qua siamo ancora, non abbiamo ancora una risposta definitiva. Ecco, abbiamo un quadro di cosa è successo un po' meno di come è successo. Su The Stack di Ieli trovo anche un articolo con un virgolettato proprio del cybercriminale che parla con Hudson Rock e parla dei sistemi di sicurezza di Snowflake e di questi session token. Dice, testuali parole, i Snowflake sono ritardati, cito quello che dice proprio il criminale. Dice, i loro refresh token non scadono, anche se la loro configurazione di scadenza sarebbe 14.400 secondi, che sarebbero poi tipo 6 ore, e quindi li ho presi e da questi poi ho generato dei session token valido. E quindi pare essere confermato quello che dicevamo, no? Cioè che rubando questi refresh token poi si è stato in grado di generare i session token. Insomma, Snowflake, pur negando tutto questo, scrive anche in una sua guida alla configurazione degli utenti, se hai abilitato il parametro allowID token sul tuo account, l'utente deve essere lasciato nello stato disabled, quindi nello stato disabilitato, per 6 ore per invalidare qualunque possibile accesso non autorizzato attraverso la feature di ID token. E qui parla proprio delle 6 ore, che dovrebbero essere quelle 6 ore in cui il token rimane valido, prima che, cioè il massimo time span prima della scadenza proprio di questo token. Se l'utente viene riabilitato prima della scadenza di questo periodo, l'attaccante può essere in grado di generare nuove sessioni utilizzando l'ID token esistente, anche se la password è stata resettata oppure è stato abilitato il multifactor authentication. Quindi capite, Snowflake nega qualsiasi problema di configurazione lato loro, però dall'altra parte ha un sistema di login con dei token, con dei refresh token configurati per scadere dopo 6 ore, che è un tempo molto lungo. In questo tempo, se qualcuno riesce a intercettare, a rubare un refresh token, è in grado di generare una connessione, di fingersi un utente valido in questa connessione, quindi probabilmente entrare, fare dei danni, poi potrebbe avere accesso ad altre parti del sistema, sempre sfruttando magari delle configurazioni errate. Non lo sappiamo ancora bene perché appunto non abbiamo tutti i dettagli di quello che è accaduto, di come sia stato possibile, però insomma qualcosa ci punta a credere che non tutto sia stato perfettamente configurato all'interno di Snowflake. Questo attacco, considerato come avete sentito, uno dei più grandi di sempre, potrebbe avere altre vittime, perché qua si è parlato di Ticketmaster e di Santander, ma sono numerosissimi i clienti di Snowflake e quindi poi nei prossimi giorni probabilmente sapremo qualcosa di più, ma questa storia credo che andrà avanti ancora un po', quindi ci torneremo con ulteriori dettagli. E allora ho detto che avremmo parlato anche di Cyber Security italiana, questa è una notizia in realtà di un paio di settimane fa, ma insomma è abbastanza grossa. C'è stato un attacco a un'azienda sanitaria privata italiana, una delle più grandi d'Europa, che si chiama Synlab e se magari siete dei clienti di Synlab avrete già sentito qualcosa, avrete ricevuto magari delle comunicazioni proprio dall'azienda, insomma, vi racconto un po' quello che prendo da Il Post, perché poi questa vicenda insomma ha scavallato anche i confini della stampa di settore per approdare su quella generalista, quindi vado un po' a vedere se intanto la raccontano con dovizia di particolare, poi prenderò qualcosina anche da D-Day. Il gruppo di criminali informatici noto come Black Basta ha pubblicato nel Dark Web tutti i dati che aveva sottratto il 18 aprile alla divisione italiana di Synlab, una delle principali aziende sanitarie private d'Europa. Synlab esegue circa 35 milioni di esami tra prelievi del sangue, check-up e teste prenatali. I referti dei pazienti, almeno migliaia di persone, sono stati rubati per ottenere un riscatto. In seguito alla presa di posizione dell'azienda, che fin da subito si era detta di non essere disponibile a pagare, il gruppo di criminali informatici ha pubblicato i dati nel Dark Web così come aveva minacciato di fare al momento del furto. Peraltro ricordo che in Italia è vietato alle aziende pagare i riscatti, non avrebbe neanche potuto farlo. Questo attacco è particolarmente grave, poi prosegue l'articolo, perché dimostra che anche i grandi gruppi come Synlab sono vulnerabili ad attacchi di questo tipo. E l'abbiamo visto poco fa con un enorme gruppo che è Snowflake, insomma. Insomma, soprattutto perché la diffusione dei dati dei pazienti ha conseguenze molto concrete. Chiunque può accedere a referti ai cartelli clinici con dati personali legati alla salute delle persone, per esempio diagnosi, terapie, radiografie, ecografie, oltre a dati relativi ai documenti di identità. In totale sono stati pubblicati 1,5 terabyte di documenti. Non è ancora chiaro quale metodo sia stato utilizzato da Black Basta per entrare nel sistema di Synlab. E poi qua si fa riferimento ai dati del Clusit, che è un'associazione che si occupa di sicurezza informatica in Italia, dati che dimostrano quanto gli attacchi informatici in Italia stiano crescendo negli anni. Infatti nel 2023 ci sono stati 310 attacchi in crescita del 65% rispetto al 2022. In particolare sono aumentati molto gli attacchi contro il settore sanitario. In una nota pubblicata lunedì 13 maggio Synlab ha confermato la diffusione dei dati personali e ha detto che si impegnerà a informare alle persone coinvolte delle conseguenze dell'attacco. In Italia come in molti altri paesi le aziende sono quasi sempre obbligate a comunicare al garante per la protezione dei dati personali un attacco che comporti l'indisponibilità una perdita o un furto di dati personali. Questo lo prevede la legge. Su D-Day per qualche info in più relativo a Black Basta che dice il sito è un gruppo noto da alcuni anni identificato per la prima volta ad aprile 2022 che ha già attaccato 500 organizzatori in tutto il mondo. Dice una nota del Cyber Security Advisory statunitense gli affiliati di Black Basta utilizzano tecniche comuni di accesso iniziale come il phishing e lo sfruttamento di vulnerabilità note e quindi impiegano un modello a doppia estorsione sia criptografando i sistemi sia estraendo i dati la cosiddetta exfiltration dei dati. Poi sempre il 13 maggio Synlab ha pubblicato una nota dice Synlab Italia è in stretto contatto con le autorità competenti ed è già al lavoro per analizzare i dati pubblicati impegnandosi ad informare opportunamente i soggetti coinvolti in conformità alla legge. Le risposte fornite poi ci dice invece D-Day fornite alle domande frequenti sono generiche per esempio indirizzando gli utenti alle guide del garante della privacy sul phishing e sul sim swapping oppure sconsigliando di accedere al dark web per provare a recuperare i dati in autonomia. Scrive ancora Synlab ci rammarichiamo del disagio insomma. Qui secondo me ci sono due cose da sottolineare bene e tenere bene bene presenti. La prima è che è un vero un peccato anzi direi qualcosa di più è una disgrazia non sapere come questi criminali siano riusciti a entrare in possesso di questi dati cioè come siano entrati nei sistemi stiamo parlando di sistemi che hanno una protezione bassa una protezione scarsa è troppo scarsa bisognerebbe alzarla oppure nonostante tutti tutte le precauzioni siano state attivate nonostante questo qualcuno è riuscito in un modo che non sappiamo a perentrare in questi sistemi insomma sapere come hanno fatto ci aiuterebbe molto a capire qual è anche lo stato medio della cyber security in Italia e capire quali sono insomma le azioni che dovremmo intraprendere per migliorarle anche fare un po' di divulgazione un po' di informazione e l'altra cosa riguarda invece lato nostro lato utenti che ormai siamo oggetto di questi bridge costantemente ecco il consiglio è di dare per assunto dare per scontato che siamo già stati briciati cioè non preoccupiamoci neanche certo vabbè poi preoccupiamoci andiamo a vedere ma non è tanto il preoccuparsi di essere o no vittime di essere presenti o no in un dataset tanto comunque se non si è in un dataset si sarà in un altro dataset insomma dare per scontato che si è già stati briciati quindi che i nostri dati siano comunque già in mano a qualcuno secondo me ci aiuta ad affrontare diversamente le telefonate le email i click online i login sapendo che qualcuno o chiunque è in possesso degli stessi dati di cui siamo in possesso noi delle informazioni che abbiamo noi ma se potenzialmente chiunque è in possesso delle stesse informazioni di cui siamo in possesso noi cosa ci distingue da loro come possiamo rendere sicura le nostre attività online beh noi abbiamo qualcosa che i criminali non hanno due cose noi stessi e i nostri device intesi noi stessi come biometriche come dati biometrici quindi il nostro viso i nostri impronti digitali queste sono cose di cui ovviamente siamo in possesso solo noi e poi i nostri device il nostro smartphone il nostro pc finché qualcuno ce lo ruba fisicamente ecco quei device sono solo nostri ecco quindi un invito ad alzare un pochino la soglia minima che tolleriamo per l'accesso a un sistema un sistema che non vi consente di accedere con questi dati probabilmente non dovrebbe superare ecco il check minimo di security che consideriamo accettabile per accedere a un sistema passiamo ai link vi do due link oggi un tool quindi un software e una roba da leggere il tool è Frankenphp Frankenphp è un PHP server quindi è un server che vi interpreta le vostre app gli iscritti PHP tra l'altro con un logo meraviglioso con l'elefante l'elefantino di PHP però stavolta è Frankenstein quindi è stato è un Franken elephant molto carina questa mascotte e Frankenphp è un app server PHP che sta prendendo molto piede in realtà lo sto vedendo molto utilizzato anche in vari tutorial online c'è un'immagine docker ufficiale che potete già lanciare per provarlo per provare a vedere di lanciare qualcosa app PHP e ha un sacco di feature moderne si appoggia come web server a Caddy e poi una serie di nuove feature tra l'altro supporta insomma i più grandi framework PHP Symfony Lavrel e ha supporto ufficiale nativo per le estensioni PHP più popolari come Hopcache e Xdebug quindi insomma molto figo ve lo consiglio vi consiglio di darti un'occhiata se non lo conoscevate Frankenphp dovrebbe ecco rientrare nella cassetta degli attrezzi dell'ottimo sviluppatore web full stack e poi invece vi do questo da leggere The Forgotten History of Chinese Keyboards insomma la storia delle tastiere cinesi dimenticate meraviglioso è un blog post trovo su Spectrum il magazine di IEEE ecco è molto molto figo e c'è c'è un sacco di immagini anche che vi raccontano proprio come è nata cioè come è andata l'evoluzione delle tastiere cinesi che magari non ci avete mai pensato però insomma il cinese ha dei caratteri degli ideogrammi insomma molto diversi da quelli occidentali e quindi come sono nate le tastiere con gli ideogrammi oggi sapete che le tastiere cinesi giapponesi insomma delle lingue con gli ideogrammi sono delle tastiere ridotte che poi riescono a comporre le parole con una certa intelligenza ma insomma in origine erano anche parecchio grandi perché dovevano contenere insomma tutti questi ideogrammi e l'articolo insomma è molto molto figo ve lo lascio io non l'ho neanche letto tutto devo finire di leggerlo però soltanto per le immagini che contiene di queste tastiere d'epoca con tutti questi ideogrammi insomma vale secondo me la pena di riesplorarlo quindi vi lascerò questo articolo se avete 10 minuti è un po' lunghetto 10-11 minuti dice l'header però io me li prenderei per avere un po' di informazioni su questa storia molto figa e ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi noi ci vediamo a un prossimo buongiornissimo fate bravi controllate le vostre credenziali non fatevi rubare l'account dei malintenzionati online a presto ciao